Radio CRT, Radio CRT, Working on a Dream di Domenico Sorrentino. Il programma è stato offerto da... Dal 1972 c'è una cooperativa con una lunga tradizione, custodita e valorizzata per realizzare un prodotto unico, per gusto e qualità. Un'eccellenza dell'Irpinia, ma non solo, poiché cerniera di due tradizioni, la campagna e la Puglia, e da entrambe nasce il celebre casciocavallo podolico e quello irpino. La cooperativa agricola Molara punta sulla qualità dei prodotti, presenti nei più importanti ristoranti e gastronomie di qualità. La cooperativa agricola Molara è a Zungoli, alla via Toppo dell'Anno. Per info e contatti chiama il numero 0825 845 281. Visita il sito www.copmolara.it, presenti anche su Facebook. A Milito Irpino, una realtà consolidata. Matullo, trattoria, pizzeria. Cucina casereccia, ingredienti e sapori antichi, pasta rigorosamente fatta a mano, specialità carni locali, antipasti ricchi e curiosi, angolo braceria con ampio caminetto e spazi esterni. Pizzeria con forno a legna, dolci fatti in casa, locale per ricevimenti, possibilità compleanni bimbi con animazione, menu per intolleranze e alimentari su richiesta. Un indirizzo affidabile e di fiducia, dove varcata la soglia si è accolti da un simpatico staff che vi farà subito respirare un'aria familiare. Tradizione e familiarità sono i punti salienti di questo locale, dove tradizione è sinonimo di antichi piatti tramandati di generazione in generazione. Matullo, trattoria, pizzeria e in via Libertà 12 a Melito Irpino, Avellino. Per rinfo e prenotazioni 0825 47 2019 oppure 368 60 75 32. Chiusura il martedì. 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 Grazie a tutti